e allora grazie grazie veramente grazie e allora vediamo un pochettino jessica ci sono altri sms vieni qua vieni qua leggiamoli in diretta bellissime veramente bene allora penso che abbiamo già superato la mezz'ora del primo tempo è vero direttore carlo campolongo la mezz'ora abbiamo fatto bene noi finiamo finiamo a mezzanotte 40 minuti 40 minuti allora c'è tempo c'è tempo vogliamo fare un grande applauso alla direzione al presidente al nostro amico carlo campolongo di sei tv bene un bacione e alessio una pausa alessio bene 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 allora ci sono altri sms vero bene un saluto speciale giuseppe rosa maria dal todis di salerno sono maria rosaria da salerno volevo salutare tutto lo staff enzo sorrentino e mia figlia mina il mio genero dario che sono a pavia che si sono un bacio a tutti sei grande in so bacioni da tua sorella eva ciao enzo ti stiamo guardando tutti sai che sei bravissimo un bacione da tua sorella gianna i tuoi nipoti i tuoi nipoti anna e alfonso ciao ciao enzo sono aida da novara sei grande va bene grazie allora vai là che sento il telefono squillare però a nulla la chiamata bici dobbiamo solo mandare gli sms non rispondiamo e nessuno categoricamente no se volete qualche informazione o qualche cosa qualche saluto ovviamente sul telefono fisso c'è sovimpressione basta leggerlo di citarlo e sarete con noi va bene allora voglio fare un saluto approfondito per le mie due sorelle che stanno guardando una da sansevrino eva sorrentino un bacione non è l'altra giovane sorrentino detta pina e così te la conoscono che sta lì a napoli un forte bacione che stanno in ascolto bene e allora amici sono passati 40 minuti dall'inizio della trasmissione e durano ancora c'è ancora tantissimo tempo a disposizione con noi